una delle case di moda più influenti al mondo il filato arriva ancora prima del disegno raccontata con passione dai suoi protagonisti con questa gentilezza meravigliosa della male di questo rumore trovo che il lavoro di missoni sia artistico ne abbiamo fatti di tutti i colori questo sì di in missoni questa sera alle 21 e 15 su sky art